ma da dove viene questo latte così fresco e buono nasce sotto i cavoli lo porta alla cicogna vabbè lo sanno tutti e grazie soprattutto a lei se il nostro latte arriva nella tua tazza ogni mattina la mucca fa il latte e poi arriva in centrale no non la mucca il latte arrivato in centrale lo controlliamo e lo pastorizziamo per garantirtelo fresco buono e sicuro e di notte partono i nostri camioncini per distribuirlo nei negozi e nelle latterie dove lo scegli per portarlo a casa la nostra mucca no però lei rimane nei nostri pascoli per continuare a fare il suo buon latte per il giorno dopo Grazie 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 Grazie